diverse e sosteniamoci. Quindi, niente, grazie e buon lavoro, buona salata. Grazie. Ovviamente siamo noi a ringraziare l'ospitalità della libreria Ancilli che con la presentazione di stasera apre la settimana dedicata alla lotta contro l'omofobia. Il 17 sarà la giornata mondiale dedicata proprio a questo tema. I primi tre giorni saranno dedicati ai libri, agli autori, in diversi temi che tratteremo. Oggi pomeriggio incominciamo con la narrativa e abbiamo ospiti gli autori di due libri appena editi, Riccardo Romagnoli che ha pubblicato il diciottesimo compleanno e Cristiana Nicata invece che presenta Verri a Trovarmi d'Inverno. Priva di incominciare è importante ringraziare chi ci ha appunto anche a noi aiutato a organizzare tutte queste giornate e anche gli eventi successivi che sono elencati nel volantino generale insomma di tutta quanta la manifestazione. Dunque l'Arci di Siena è in modo particolare Serenella che si scusa di non essere presente qui stasera però sarà presente nei prossimi eventi e ci ha dato un grande aiuto e supporto. Poi l'osservatorio provinciale contro le discriminazioni di Siena, la provincia di Siena che comunque ha ritenuto opportuno appunto sostenere questo tipo di progetti e personalmente voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno aiutato la creazione di questo e di altri eventi, tutti i ragazzi del movimento pansessuale Arci Gay di Siena che con la loro opera insomma molto spesso nascosta e invisibile con il loro tempo sottratto ad altro dedicano appunto a un progetto che è qualcosa di più ampio e collettivo e in questi tempi credo che sia una cosa importante. Dunque terminati i ringraziamenti doverosi passo la parola a Silvia che è la mia martire e che mi ha aiutato appunto nella creazione di questi dialoghi, di questi incontri e quindi lascio la parola subito a lei. Allora i libri che andiamo a presentare sono, come abbiamo già detto, il diciottesimo compleanno di Riccardo Romagnoli, Transitorate Edizioni che purtroppo non è disponibile in vendita ma sono previste delle ristampe a breve quindi quando usciranno lo saprete e poi verrai a trovarmi l'inverno di Cristiana Nicata, H. Edizioni. I due romanzi sono abbastanza diversi l'uno dall'altro, penso anche per, forse anche per vedute ma ne parleremo bene approfondendo in seguito. Intanto volevo fare una piccola introduzione sugli autori. Riccardo Romagnoli è insegnante a Milano in un liceo e fiorentino di nascita e questo è il suo romanzo d'esordio. Mentre Cristiana Nicata non è un esordiente, è ingegnere meccanico alla Fiat a Roma e meritante a Milano. Ahimè! E basta, insomma, queste sono le premesse necessarie per iniziare a parlare dei libri. Però io riposto la parola a Francesco per una prima domanda. Dunque, sì, vorrei incominciare come prima domanda rivolgendomi a Romagnoli in quanto diciamo si affaccia al mondo, si è affacciato al mondo della pubblicazione con questo suo primo testo in modo molto particolare. Anche perché il romanzo è una storia che definirei appunto non scontata. Il libro stupisce nel corso della lettura. Però la prima domanda che credo sia una domanda ad obbligo, nel senso, si riferisce appunto sull'esordio. Un esordio, a differenza di Cristiana, vuol dire che ha atteso un po' più di tempo prima di nascere, ecco. E anche la questione della nascita è una questione ricorrente poi nel romanzo. Però, ecco, come mai questa, come mai, insomma, le cause che ti hanno portato a decidere di pubblicare, di fare in modo che questo tuo scritto diventi di dominio pubblico, ecco? Ma diciamo che non è stata una mia decisione di non pubblicare prima. questa è stata, questa è la verità, ecco. Io sono stato scoperto da Antonio Moresco, questo scrittore che io ritengo che sia uno dei più grossi degli italiani viventi. E lui ha avuto una parabola possibile alla mia, no? Perché poi, speri, potete diventare anch'io il migliore, insomma, degli italiani viventi. Però ha avuto una parabola simile alle mie, quindi forse anche per questo poi mi ha scoperto e mi ha permesso di pubblicare. Cioè, Moresco ha cominciato a pubblicare dopo 15 anni, dal momento in cui aveva iniziato a scrivere. E ha iniziato a pubblicare quando ormai non ci sperava più. E ha cominciato comunque con case editrici notevole livello, con Bollati Boringhieri, poi eccetera, è andato con tutte le altre case editrici. E quindi è stato lui che, ad un certo punto, mi sono rivolto e che ha detto, no, devi pubblicare. È arrivato il momento, insomma, di pubblicare. Quindi è grazie a lei. Il fatto che io non abbia pubblicato prima, appunto, è semplicemente perché ho trovato delle grosse difficoltà. Difficoltà talmente grosse, un po' legate al tipo di scrittura, un po' legate alle tematiche che vengono affrontate, forse poi anche dei problemi che abbiano tutti coloro che vogliono iniziare a scrivere. E quindi si sono accumulati una serie di testi che non hanno avuto un riscontro esterno e quindi sono rimasti classici nel cassetto. E una volta che, dopo un po' di tentativi, avevo deciso di lasciar perdere, di dedicarmi a tante altre cose belle che si possono fare nella vita più piacevoli, piuttosto che scrivere e non essere accolti, insomma, quindi ho deciso di smettere per un certo periodo di tempo. Poi mi è ritornata però la voglia di scrivere ed è nato, appunto, il diciottesimo compleanno. E quindi è nato come un testo che è un po' una sfida a me stesso, cioè non mi pubblica nessuno, d'accordo, scrivo quello che piace a me e molto mi piace a me. E così è nato questo libro che comunque risale, appunto, nella sua prima stesura al 2004, quindi non è proprio recentissimo. E ne sono seguiti altri, poi, però è questo che ho fatto leggere a Voresco. A lui è piaciuto, ha creduto in questo romanzo e quindi siamo arrivati alla pubblicazione. Quindi il fatto che io abbia pubblicato adesso, piuttosto che 10, 15, 20 anni fa, è dovuto a problemi, cioè non non a mia volontà, ecco, ma alle difficoltà che ho incontrato. Quindi comunque, diciamo, sembra che nulla cambi, invece qualcosa è cambiato, nel senso che i tempi sono evidentemente mutati, insomma, da parte delle case editrici per poi arrivare a pubblicare qualcosa che qualche anno fa non avrebbero mai pubblicato. Ma forse ha contato anche un po' la sponsorizzazione, diciamo, di Voresco, che ha trovato poi una sponda in TransEuropa, che è una case editrice che si caratterizza per fare un po' ricerca di nuovi scrittori e quindi credo, ecco, si siano trovate un po' queste due realtà. Poi, ecco, io non so, generalizzando com'è la situazione, comunque anche per questo libro, dal momento in cui, pur essendo una piccola casa editrice, pur avendo alle spalle appunto Moresco, eccetera, dal momento in cui è arrivato in lettura a TransEuropa, sono passati, prima che arrivasse la pubblicazione, gli avvocati e anche gli amici. Quindi, comunque, è stato tutto un travaglio... Una lunga gestazione. Una lunga gestazione. Poi, però, appunto, non so se poi è cambiato qualcosa in generale o a volte... Io mi sono accorto che dopo la pubblicazione, comunque, di questo romanzo, mi hanno richiesto dei racconti, racconti che avevo già scritto e che ne hanno stati rifiutati più volte, e che a un certo momento sono diventati racconti di particolare raffinatezza, belli, interessanti, che bello stile, così... Vabbè, meglio così, ma... Per capire un po' di cosa stiamo parlando, visto che non abbiamo bene introdotto i romanzi, secondo me è bello, se emerge un po' il tipo di libro, il tipo di racconto, anche parlandone direttamente con gli autori, però forse potremmo leggere gli incipit. Leggo i romanzi anche per capire un po' le diversità di scrittura, prima ne parlavano anche in albergo, su come sono i libri e in che modo sono concepiti. E poi passerei direttamente, la faccio subito, una domanda a Cristiana sui destinatari del romanzo, su chi secondo lei dovrebbe leggere questo romanzo è il suo direttore, perché è un romanzo esplicitamente LGBT e quindi per questo è interessante dire se è diretto più a una certa comunità o se è diretto a tutti i lettori o a... e mi fanno le cose o invece, però prima leggerai l'incipit. Se volete leggere anche voi... Io leggo un po' di legge mio. Sì, ma l'hai letto già, vero? Lo sai com'è? No, non è. Sei sempre vicino a me. No, non va beh. Ti prendi la responsabilità tu. Ho già... ho già una cucchiata. Non ho bisogno, vai. Inizio io? 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 Inizio io?